Buongiorno, è qui l'ufficio per le incarnazioni? Ma sì, è qua, è qua, venga avanti, venga! Mario, ma cosa succede oggi? È la fila di gente, ieri nessuno! Senta, ma è possibile incarnarsi sulla Terra nel 50? 1950, mi hanno detto, che è interessante! Anche questo qua, vengono sulla Terra, Mario! Un altro! Guardi, 1950 è pieno, mi spiace! Ma com'è pieno? Io voglio andare giù, mi hanno detto che c'è bisogno di gente, che c'è un evento grosso, una guerra mondiale... Ma sì, è vero, però guardi che stiamo andando giù solo anime adulte, lei ha i requisiti, cosa ha fatto? Beh, io comunque sono fatto un paio delle guerre puniche, una crociata... Comunque ero nostalire! L'hostalire? L'hostalire, Mario! L'hostalire, vado a andare giù nel 50? Pensa te! Ma abbiamo bisogno di guerrieri noi, di gente forte? Beh, vabbè, ero stagliere, ma comunque, insomma, ho fatto una peste, la prima, mi è morta e sterminata la famiglia dal nemico, mia figlia, quella viva, è nata a sposarsi con un altro, ho dovuto elaborare il perdono, insomma, è stata un'incarnazione difficile! Sì, sì, tutti bravi con le incarnazioni vecchie! E sono quelle nuove che poi vengono qua, fate tutti i bè bè vado io, lo faccio io, poi arriva là a 18 anni, vuole tornare a casa, vuole la mamma, ci fanno di tutto per disincarnarsi! Ah, ma senta, ma io ho del karma da smaltire, come faccio se no, se sto qua sempre qua? Guardi, è inutile che insista! È 1950, ce l'ho pieno, la posso mandare dopo, verso fine anni 70! Ma fine anni 70? Ma... Ma i Beatles saranno già sciolti da 10 anni, i cantanti quelli grossi, sono già tutti morti di droga! Cosa vado giù a fare? Guardi che dopo, nel 2020, più o meno, adesso non so, devo guardare bene sulle carte, ma c'è un evento grosso, c'è bisogno di gente! C'è bisogno di gente importante, però anche uno come lei, possiamo andarlo giù, insomma, a darne una mano! Eh, va bene, però mi mandi in un posto interessante, dove c'è delle possibilità, dove si sviluppa delle qualità grosse! Guardi, se vuole c'è un'opportunità bellissima, mi va in una bella periferia di una grande città, famiglia di immigrati di prima generazione dall'Africa, per cui discriminazione naziale, interessante, papà in carcere, mamma precaria! Beh, sembra del disagio grosso, sembra interessante, ma cos'è che devo fare là? Guardi, se accetta la proposta, mi deve fare il rapper! Il rapper? Ma a me la musica rap non mi piace! Lo so già come sarà! L'autotune noi lo usavamo due secoli fa, eh, guardi, se la mando lì, mi fa o il rapper o lo spacciatore! Che poi in realtà sono due professioni che mi vanno di pari passo! Ma no, guardi, a me è la vita della città, non so se mi è utile, ecco, per smaltire il karma che c'ho io, più una roba familiare, non c'è qualcos'altro! Guardi, se vuole, ho della mediocrità! In che senso della mediocrità? Né infamia, né lode, un posto né bello, né brutto, né vicino, né lontano, una famiglia né buona né cattiva, insomma, una base mediocre! Eh, ma poi devo far tutto da solo, me le devo andare a cercare io, tutte quante le disgrazie! Ah, ma con tutti i problemi che ci sono in quel pianeta lì, le disgrazie se le crea facili, e guardi che quello non è assolutamente un problema! Beh, è vero anche quello, che tra l'altro i sindacati, cioè, non fanno niente! Eh, ma cosa vuole? Siamo ai confini della galassia, comunque! E lì i sindacati non sono ancora arrivati, perché c'è un problema con lo spazio temporale! Sono duemila anni che aspettiamo il tecnico, e non arriva in una giusta sta porta! Beh, va bene, dai, andiamo lì! È un'altra roba importante, proprio perché io, in ogni incarnazione, mi sono sempre portato via un simbolo, c'è tipo nelle guerre, c'avevo la spada, poi ho fatto una roba da frate, avevo il saio, qua, qual è l'elemento simbolo di queste incarnazioni qua? Può vedere lì sul foglio! Allora, vediamo qua i due elementi simbolo che le posso dare, che poi si porterà via per tutto il resto dell'eternità. C'è un elemento e anche un animale guida. L'elemento è la nebbia! L'animale guida, la zanzara! Ah, nebbia e zanzare! E se non c'è niente di meglio... ... ... Grazie.